ok fatemi sapere se si sente se si vede tutto quanto mi ero scordato atto lì il muto sul microfono quindi probabilmente il primo pezzo non si è sentito assolutamente niente innanzitutto voglio dare il benvenuto a tutti quelli che sono già presenti su questa seconda live di astro pills allora abbiamo ecco qui allora abbiamo nicola ragazzi che vi dico un po questa sera un setup quindi mi metterò anche gli occhiali da nerd perché c'è questo monitor piccolissimo allora c'è nicola stefano moreno claudio ivan tutti quanti mirko ciao a tutti ciao mimmo si sente bene vedete bene fatemi datemi un feedback al riguardo ciao carlo e qua il mio gatto già piazzato sto cercando di tenerlo a bada per questa live ma questa sera mi sembra molto più dispettoso dell'ultima volta ciao attile ragazzi c'è anche il mio maestro attilio quale onore adesso sento la pressione di dire qualsiasi fesseria su pixinside perché tutto quello che so me l'ha me l'ha insegnato me l'ha insegnato praticamente lui quindi ecco saluto tutti quanti alfio francesco jacobo insomma siete tantissimi giovanni diego alessio ciao a tutti allora partiamo un po intanto che arrivano anche le altre persone vi spiego un po in che cosa consiste questa live consisterà nel nell'elaborazione con pixinside in particolare ho scelto come soggetto la galassia del triangolo m33 che è l'ultimo soggetto che ho fotografato la settimana scorsa con l'asi 6200 mc pro che rispedirò molto probabilmente la settimana prossima ok il mio gatto ha deciso di andarsene meglio così almeno un po più comodo e spero che no vedo che sta facendo un po di dispetti con i cavi ma spero che si calmi a breve comunque vi dicevo questa questa live consiste per l'appunto nel fare questa elaborazione e vi guiderò in un po in tutto il processo dalla calibrazione fino ai tocchi finale però ovviamente fatemi fare una premessa fare tutta un'elaborazione come ben sapete se se siete astrofotografi anche voi non è una cosa che si può fare in una live in un'ora e mezza perché anche per i tempi tecnici soprattutto adesso stiamo lavorando con file a 61 megapixel fare già il debayering di 60 frame come nel mio caso 65 frame a 61 megapixel è una cosa che richiede probabilmente circa un quarto d'ora quindi sarebbe un quarto d'ora di chiacchiere sul nulla intanto saluto il c'è anche massimiliano che l'altra volta era mancato la live mi era un po dispiaciuto saluto saluto anche luca bruno matteo franco bellissimo franco anche tu sono molto contento che ci siete ci siete tutti quanti e quindi diciamo che già ne siamo un bel po possiamo partire con 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 questa nuova live elaborazione i pix insight allora partiamo da uno stadio intermedio ovvero il post calibrazione poi faremo un passo indietro vi farò vedere come ho fatto la calibrazione però quando si è arrivato con la calibrazione quello a cui arrivo io è questo step vi consiglio di chiudere un attimo gli occhi perché c'è un gradiente rosso fortissimo come potete vedere ma questo è il risultato del filtro optolong allenanza quindi il punto dal quale io vorrei partire è questo o quello subito dopo dopo la photometric color calibration perché anche io le richiede un po di tempo per fare tutta la parte di multi scale median transform quando deve andare a fare la calibrazione pertanto partiremo subito dopo questo step ma li cureremo tutti e vi dirò tutti i processi che ho usato come li ho impostati salteremo solamente la parte dove si vede la console che sta elaborando giusto per velocizzare un po il tutto chi c'è è arrivato qualcun altro è arrivato Sergio ciao Sergio allora partiamo innanzitutto andiamo a togliere questo auto stretch mettiamo un attimo da parte queste tre immagini considerando anche la rejection low e high dell'integrazione e partiamo dalla calibrazione come ho fatto la calibrazione di di questa immagine innanzitutto il mio workflow è pressoché sempre lo stesso parto dal in questo caso siamo con fotocamera colori ci vengo a specificare prima cosa integrazione dei master bias master dark o dark flat in questo caso con questa camera in questo test ho utilizzato i dark flat quindi prima cosa che sono andato a fare è stato quello di generare un dark flat per il dark flat per chi non lo sapesse abbiamo fatto anche una puntata la settimana scorsa sono dei flat sostanzialmente presi con il il tappo sul sulla vostra ottica e in un luogo buio a differenza dei bias questo genere di calibrazione serve per evitare che in alcune camere vi avevo già accennato sul sul gruppo facebook che parlando con un altro astrofilo è uscito fuori un argomento interessante sul perché tecnico alcune camere hanno bisogno o meglio beneficiano della calibrazione con dark flat e altre invece con la calibrazione con i bias e su queste camere dove c'è il beneficio con i dark flat spesso si ha un danno con i bias sembrerebbe essere imputabile a una tecnologia dei sensori sony che è però prendetelo con le pinze perché devo verificare quindi vi sto cercando di anticipare una teoria che c'è dietro che sembrerebbe fare la sottrazione del bias già in fase di acquisizione quindi al momento in cui voi andate ulteriormente a sottrare il bias da un segnale dove già sono sottratto ovviamente fate danno questa è la grande linea però ripeto prendetelo con le pinze perché ci vogliono dati certi ci vogliono comunque degli esperimenti prima di giungere alla conclusione ad ogni modo per fare l'integrazione del dark flat andiamo ad utilizzare la image integration andiamo a prendere i nostri dark flat che si trova dentro flats tra l'altro non so perché sgp non me li andrete a rinominare ma sono questi ultimi 15 file se non sbaglio fino ai 35 dopo di che come combinazione utilizziamo sempre average come normalizzazione non vogliamo nessun tipo di normalizzazione come per i dark come per il peso non ci importa devono avere tutti ugual peso questi questi dark per permettere una calibrazione corretta non vogliamo avere evaluate noise e come algoritmo di di rejection andiamo utilizzare windsorite sigma clipping breve un breve cenno su il rejection algoritmo spesso anzi nel 99,9 per cento dei casi le persone vanno a utilizzare windsorite sigma clipping eccezione per quando si fa la l'integrazione dei flat che si va a utilizzare sempre vuole inserare sigma clipping ma invece che scale 0 offset si va ad utilizzare o non normalization come in questo caso quando avete dark non volete nessun tipo di normalizzazione scale più 0 offset se state facendo l'integrazione dei light e equalize flux invece se state facendo l'integrazione dei flat in questo caso siamo con i dark flat quindi andiamo con non normalization non ci interessano le rejection map non ci interessa clippare lo range e come sigma low e sigma high andiamo utilizzare 5 e 5 e dopodiché lanciamo l'integrazione il risultato che andremo ottenere è un dark flat a tutti gli effetti come questo qui questo è il dark flat ottenuto che verrà poi utilizzato per calibrare i flat frames per calibrare i flat frames con il dark flat vi faccio vedere andiamo su image calibration image calibration qui andiamo a dargli i flat quindi sono in questo caso questi 15 qui e qui abbiamo due possibili path per la calibrazione dei flat se fate la calibrazione con i bias allora volete avere il master bias checcato qui andate a selezionare il ciao franco ciao franco è arrivato anche il mitico franco un pelo in ritardo ma assolutamente in tempo per questa puntata intanto saluto anche gli altri che sono arrivati ciao Emanuele grazie Walter e Lorenzo Cosimo Marcus insomma Tommy Thomas scusa perché c'è anche un altro Tommy nel canale e non fa niente franco è un po' in ritardo vi dicevo comunque se voi fate la calibrazione utilizzando il master bias e il master dark voi mettete qui il bias o il super bias e qui andate a mettere il master dark andate a mettere calibrate e non lasciate selezionato optimize al contrario se noi andiamo a utilizzare il dark flat quello che vogliamo fare è andare a deselezionare il master bias perché non vogliamo utilizzarlo dal momento in cui il segnale del bias è contenuto all'interno del dark flat e qui semplicemente andiamo a dare il master dark flat solo calibrate niente optimize e il master flat lo lasciate vuoto e andate a calibrare scegliete come sempre la cartella ricordatevi assolutamente che se siete con una fotocamera a colori dovete avere enable cfa che cfa è un acronimo che sta per color filter array che rappresenta la matrice di Bayer il filter array che è messo di fronte al nostro sensore altrimenti essendo in monocromatica assolutamente dovete ricordarvi e non so perché dall'ultima versione della 1.886 PixInsight ha cambiato le opzioni preselezionate e io spesso con la mia monocromatica mi trovo a rifare sempre la calibrazione perché mi scordo di andare a togliere la spunta quindi fateci un po' attenzione una volta calibrati un attimo che leggevo ciao Maurizio ci sono anche altri ciao Marco siete tantissimi allora vi dicevo una volta calibrati i flat andiamo a fare l'integrazione dei flat andiamo a resettare questa vista quindi vado a prendere i miei flat calibrati in questo caso non non li abbiamo calibrati in questo step e non credo di aver conservato quelli calibrati però supponiamo di aver selezionato quelli giusto appunto calibrati con il dark flat li selezioniamo tutti li mettiamo in questa lista e come normalizzazione invece per i flat vogliamo utilizzare una normalizzazione moltiplicativa perché la correzione dei flat diversamente da altre correzioni avviene con moltiplicazione e divisione per pixel come pesi andiamo a specificare anche qui don't care perché vogliamo che tutti abbiano lo stesso peso questo discorso dei pesi che cosa sono? vuol dire che un'immagine ha un peso nell'integrazione se un'immagine ha un peso alto vuol dire che nella somma finale l'immagine è più determinante e più importante per il risultato finale quando facciamo i frame di calibrazione vogliamo che siccome stiamo cercando un valore mediano statistico vogliamo che tutti abbiano lo stesso peso per non falsare ecco la calibrazione quindi anche qui mettiamo don't care evaluate noise in questo caso per i flat va lasciato selezionato come rejection andiamo a utilizzare windsorizing sigma clipping e qui andiamo a mettere equalize fluxes che vi dicevo prima le rejection map non ci interessano sinceramente per i frame di calibrazione non le ho mai utilizzate e anche qui utilizziamo sempre 5.5 per il sigma high e low generato il master flat facciamo la nostra calibrazione dei light quindi generiamo l'immagine la salviamo e procediamo con la calibrazione dei light calibrazione dei light come funziona? intanto se qualcuno ha qualche domanda perché io butto un occhio tra qui la webcam e il monitor quindi a fine a fine live probabilmente sarò sarò strabico ciao Roberto intanto ciao chi altro è arrivato? vedo Francesco c'è anche il mio corregionale che è appena arrivato e vi dicevo una volta generati i tre master bias, master dark e master flat andiamo a fare la calibrazione master bias che non avremo qui perché abbiamo utilizzato i dark flat quando utilizzate i dark flat vi spiego come dovete procedere andate con i lights andiamo a selezionare tutti i miei light frames vabbè andrò a scegliere una directory di output supponiamo io come avete notato questo è la mia struttura delle cartelle quindi ho lights e poi ho tutti i vari step calibrate dopodiché ci sono quelle selezionate subframe selector poi le vado a correggere poi debayerizzare se ha colori e infine le vado a registrare quindi andrò a dare che so la cartella calibrated sempre faccio attenzione a tenere selezionato enable cfa qui potete lasciare impostazioni default il master bias non lo stiamo utilizzando ma prenderemo il segnale del rumore scusate non segnale il rumore del bias dal master dark master dark che vado a selezionare in m33 questo è il mio master dark calibrate senza optimize optimize deve essere utilizzato quando voi prendete dei dark che non siano con lo stesso tempo dei vostri light frames ma questa è una cosa ragazzi che non volete mai fare o personalmente non vedo il motivo per cui uno debba utilizzare un dark da 300 secondi su un'immagine da 600 prendete sempre i dark stessa temperatura stesso gain stesso offset e stesso tempo questo è fondamentale per avere una calibrazione come si deve qui nel master flat andiamo a mettere il nostro master flat appena salvato facciamo finta che l'abbiamo salvato anche se l'ho generato prima calibrate lo lasciate desezionato e nell'ultima versione di pixinsight c'è questa opzione molto molto interessante che si abilita solamente ovviamente se avete se sta utilizzando una camera a colori separate cfa flat scaling factors che cosa vuol dire nel momento in cui lui va a fare la calibrazione con il flat se questo master flat come nel nostro caso non è stato debaierizzato lui va ad applicare un fattore di un moltiplicatore di scala sui diversi canali rosso verde e blu per questo dovrei leggermi più a fondo diciamo proprio tutto l'excursus tecnico che c'è dietro di Juan Ipero ma non ho ancora avuto il tempo però ho capito a grandi linee che serve per avere una calibrazione migliore soprattutto quando si ha un pattern RGGB che può avere delle ha delle differenze nelle calibrazioni di singoli canali colore e quindi questa cosa viene applicata anche nei flat frames dopodiché andiamo a dare apply global e calibriamo il tutto intanto vediamo se ci sono domande ho visto che sì ciao Riccardo ben arrivato innanzitutto sì sì assolutamente rimarrà dopo allora Oscar dice con più di 15 frame non conviene utilizzare linear fit in realtà sì il dibattito questa è una cosa che leggevo anche su sulla guida o meglio sul libro InsidePix Insight generalmente i vari algoritmi che abbiamo qui che diciamo quelli più utilizzati sono percentile clipping windsorizing clipping linear fit e altri personalmente non li ho mai utilizzati dipende un po' dalla quantità di frame che abbiamo a disposizione linear fit spesso è consigliato quando si ha un numero consiglierevole di frame però se la gioca sempre con windsorizing clipping io personalmente preferisco una calibrazione con il sigma che utilizzo un metodo che si basa sostanzialmente sulla deviazione standard nel segnale dell'immagine che questo è un ovviamente un mio credo personale comunque windsorizing clipping e linear fit vanno un po' di pari passo nel senso che non è non c'è uno che davvero vince sull'altro dipende sempre anche dall'esigenza dell'immagine laddove si hanno dei personalmente credo dove si hanno dei frame di una lunga serata soprattutto dove ci possono essere immagini molto diverse anche perché però in differenza di gradienti c'è lo che cambia segnale che diventa più o meno intenso a seconda dell'altezza lo zent secondo me ripeto sempre secondo me il windsorizing clipping vince di poco e ho sempre utilizzato questo ho provato il linear fit clipping onestamente non ho notato differenze però tendo a preferire il windsorizing clipping questa è una preferenza personale ok intanto si parla di roba comprata ragazzi bravi spendete un po' di soldi e riprendiamo il discorso fatta la parte della calibrazione possiamo procedere con il mio secondo step che è la selezione dei e l'assegnazione dei pesi ai singoli light frames utilizzando il processo subframe selector subframe selector che è uno dei processi con più finestre in assoluto si presenta così cioè si divide in due step il primo è lo step di misurazione quindi la routine che noi andiamo a selezionare è measure subframes andiamo a dargli i file che abbiamo appena calibrato i light che abbiamo appena calibrato li selezioniamo tutti e i fattori molto molto importanti da tenere in considerazione sono i seguenti la scala in arco secondi su pixel della vostra immagine sostanzialmente come si dice potete calcolarlo ad esempio con ccd sampling calculator è sostanzialmente la scala cioè quanto quanto viene rappresentato il campionamento ecco possiamo metterla anche così della vostra immagine e il camera gain che state utilizzando nel mio caso ho utilizzato uno unit gain quindi il gain che ho lasciato è uno poi abbiamo la risoluzione della camera la camera che ho utilizzato è una camera a 16 bit e per il momento la parte di output non ancora ci interessa una volta fatta la misurazione Pixinsight ci fa vedere come sempre tutti i light frames e va a mostrarci questa tabella con tutti i vari valori quelli più importanti che credo che vadano assolutamente tenuti sott'occhio sono la full width ad half maximum che ci dà il diciamo il valore di messa a fuoco e di nitidezza possiamo chiamarlo così definizione dell'immagine l'eccentricità delle stelle l'eccentricità delle stelle rappresenta quanto queste stelle tendono ad avere un un valore circolare con una rappresentazione circolare se sono allungate l'eccentricità l'eccentricità cambia consider consider scusate considerevolmente il rapporto segnale rumore dell'immagine che sicuramente è molto importante il valore mediano che ci va a definire il valore di fondo cielo questo è molto importante è un valore che vi consiglio di tenere occhio prima di arrivare qui quando state facendo l'acquisizione ed è consigliabile avere un valore mediano quando acquisite le vostre immagini che sia almeno almeno di 5 volte il rumore di lettura della vostra camera a quei gain per creare una separazione netta diciamo tra il rumore di fondo della vostra della vostra camera del vostro sensore ed il fondo cielo e vediamo intanto se c'è qualcuno se c'è qualcuno di lavoro di osservatore qui si parla di direttore di osservatore ciao Gianni ben arrivato ciao Fabio e quindi una volta dato un'occhiata a questi valori se c'è qualcosa che poco vi quadra ecco già lì dovete cominciare a pensare se volete scartare alcuni frame o no ma andando a mettere la formula di peso che nel nel video tutorial di PixInsight sulla selezione l'avevo messa lì nella descrizione la potete ritrovare lì andando ad applicare questa formula di peso questa è una formula che non ho inventato io è di Juan Conipero è la formula che consiglia lui di utilizzare per assegnare un peso all'immagine e questo peso è fondamentale perché poi verrà utilizzato qui quando andremo a fare l'integrazione dei light andremo a utilizzare il peso definito da subframe selector è molto più accurato è molto più robusto rispetto alla noise evaluation che solitamente si usa e quindi io vi consiglio sempre di fare questo passaggio fatta la misurazione assegnati i pesi andiamo a fare output subframes gli diamo la cartella dove la vogliamo mettere seguendo il mio solito opat e le cartelle sarà light selected e diamo apply global per farlo esportare intanto non so perché sto sentendo rumori random da di là probabilmente il mio gatto sta mettendo a suo quadro la casa come dispetto per questa mia live comunque chiudiamo il subframe selector e passiamo allo step successivo che è la cosmetic correction la cosmetic correction è un processo molto semplice minimale da utilizzare qui diamo i frame dello step precedente quindi quelli nella cartella selected qui diamo la cartella di output attenzione se siete a colori sempre di selezionare cfa perché sennò fa dei disastri e viceversa se siete monocromatica dovete tenerla deselezionata andiamo a dare il nostro master dark per fare la correzione e poi andiamo a dare delle soglie per i hot pixel e i cold pixel come regolarsi con queste soglie io solitamente prendo l'immagine che ha il peso maggiore che utilizzo come immagine di riferimento in questi passaggi vado a strecciarla e a selezionare una piccola anteprima in una regione di interesse ad esempio dove c'è il cuore della galassia del triangolo e vado a utilizzare la live preview aspettate che sposto un po' più di qua vado innanzitutto a vedere l'effetto con essenza e vado a vedere dalla compressione youtube non penso si veda ma ci sono dei per l'appunto degli hot pixel i cold pixel che vanno via come andiamo ad applicare e a rimuovere il processo dall'anteprima va un po' diciamo ad esperienze ad occhio ovviamente non dovete è difficile che solo con il master dark voi facciate danno qui però ecco non fate una cosa del genere perché c'è un motivo per cui c'è uno slider altrimenti funzionerebbe già così bisogna regolarsi e fare attenzione che non cominciano a sparire dei pixel che hanno un senso nell'immagine che rappresentano il segnale richiede un po' di occhio un po' di pazienza ma se rimanete conservativi bassi correggerete poco ma sicuramente non farete danno auto detect è una cosa che io non uso all'inizio usavo ma mi ha fatto più danno che altro e poi la defect list se avete dei pixel che sapete che sono per certo di per certo bruciati qui potete andarli a definire e dire quali quali sono questi ecco dopo di che come sempre applicate globalmente passiamo allo step successivo allora step successivo siamo alla debayerizzazione la debayerizzazione c'è ben poco da dire se non che come metodo di demo sciizzazione vi consiglio di utilizzare assolutamente vng è un po' più intensivo come risorse però è quello che funziona meglio qui potete lasciare auto solo che con questa camera non so perché non mi riconosce il pattern automatico quindi mi sono andato a vedere che ha il pattern rggb come tutte le asi e glielo ho dato direttamente qui i frame dello step precedente quindi della cartella come vedete corrected l'output cartella debayered e applicate questo richiede tantissimo tempo soprattutto con file grossi come questi di 61 megapixel infine l'ultimo step pre-integrazione che è image registration star alignment qui come immagine di riferimento scelgo sempre quella che è il peso maggiore che diventa la mia immagine di riferimento vi ho detto per tutti i vari step di calibrazione il resto potete lasciarlo così a meno che voi non vogliate generare dati per una futura drizzle integration in questo caso con 60 megapixel fare una drizzle integration sarebbe stata una cosa folle qui andiamo ad aggiungere i vari frame cartella l'unica cosa che faccio di diverso perché tra tutti i processi di calibrazione questo è quello che a volte potrebbe fallire se c'è qualcosa di strano on error io metto ask user così so se c'è qualcosa che è andato storto lui mi chiede che faccio continuo mi fermo altrimenti a volte potete anche non accorgere che qualche light frame non viene registrato correttamente il caso in cui non dovesse essere registrato correttamente beh si dovrebbe fare un tutorial a parte su questa cosa qui ma dovete sicuramente lavorare sulla sensibilità logaritmica del processo e anche sulla tolleranza ransack però non lo vedremo sicuramente qui infine ultimo step image integration andiamo a prendere i nostri light frames che avremo nella cartella registered li selezioniamo una cosa fondamentale è andare a settare la reference di la reference dell'image integration questo è fondamentale ed è una cosa che molte persone o non sanno o non fanno perché poi fa la differenza nell'integrazione finale quindi il frame che ha ricevuto più peso nel subframe selector lo andiamo a selezionare e facciamo set reference lui lo sposta in cima e lo utilizzerà come frame di riferimento ad esempio per tutto quello che viene processato nell'image integration ad esempio la normalizzazione l'estimatore di scala e via dicendo quindi questa è una cosa molto molto importante intanto ciao Tommaso bene arrivato ci sono spazio fuori di ma no dicevo adesso ho finito questo primo step facciamo un po' di domande sulla calibrazione così facciamo lì per tre blocchi calibrazione fase lineare fase non lineare così almeno ci troviamo cerchiamo di trovarci così comunque per il peso andiamo su fits keyword e la fits keyword che vi riapro il processo se non ci avete fatto caso la fits keyword che abbiamo utilizzato qui ssweight quindi l'andiamo a mettere qui dentro evaluate noise lo lasciamo ovviamente selezionato wins oddio scusate wins ride sigma clipping scale zero offset qui volete assolutamente vedere rejection maps perché sono molto molto importanti è importante capire in fase di somma se vi sta il wins ride sigma clipping o l'algoritmo che state utilizzato che state utilizzando vi sta scartando troppa informazione intanto scusate cerco di fare entrare il mio gatto che sta facendo un po' il diavolo qua ah ok mi ha rubato una caramella sta giocando con la caramella benissimo qui come valori lasciamo il sigma low a4 e il sigma high a3 partiamo intanto con questi valori di riferimento se vedete che nel sigma high o in particolare chiudiamo un po' di queste finestre perché siamo arrivati a quel famoso step dal quale siamo partiti se vedete che in questi file andando a stracciare le immagini c'è troppo cioè vedete non so la nebulosità vedete la galassia ok allora avete scartato troppo e in quel caso dovete abbassare o alzare il valore fino a non vederli più in queste immagini di rejection e alla fine arriverete con un'immagine che a seconda del filtro che utilizzerete se hanno utilizzato i filtri o utilizzate i filtri a banda stretta a banda larga eccetera nel mio caso è questa cosa rosso al cecante che è un po' inguardabile fermiamoci un attimo qui per qualche domanda così passiamo poi alla fase lineare allora vediamo un po' c'era allora c'era la prima domanda di Marco diceva domanda forse idiota questo qua ma può reaggere in un rebook i3 con 8 giga di ram dipende dipende dai da quanti con quanti fa i lavori e soprattutto quanto pesano è un po' al limite secondo me allora quando puoi non avendo un master bias cosa serve selezionare calibrate sul master dark allora calibrate lo rivediamo al volo image calibration image calibration allora master bias allora in questo caso per quanto riguarda tu dici per quanto sì ok effettivamente questa è un'osservazione giusta probabilmente nel caso in cui non si utilizzi un master bias probabilmente questa cosa non fa assolutamente niente perché non c'è nulla da sottrarre del bias qui quindi effettivamente è una cosa ridondante che si può tranquillamente togliere in questo caso grazie di avermi lo fatto notare allora quando puoi ok quindi questa è la seconda domanda della stessa local normalization non lo usi per l'integrazione allora Luca in realtà grazie per avermi lo fatto notare perché con queste immagini da 61 megapixel non sono riuscito a utilizzarlo perché mi è andato in auto memory pesa tantissimo la local normalization brucia un sacco di ram io ho 64 giga di ram ed è una cosa molto molto intensiva però vediamola velocemente sì assolutamente è l'ultima cosa che faccio nel workflow dopo la registrazione faccio la local normalization che se non sbaglio va bene lo troviamo da all processes non ricordo in quale sotto menu è local local normalization eccolo qui reference image in questo caso avrei scelto sempre la settima che è quella che ho utilizzato un po' per l'allineamento e per tutto il resto di solito parto con con i valori default che mi hanno quasi anzi devo dire non quasi se sto togliendo il quasi mi hanno funzionato sempre molto bene e qui vado a mettere le immagini nel caso in cui stia lavorando ovviamente con una monocromatica questo workflow diventa un po' come un idra perché per ogni banda ad esempio per la local normalization va fatta separatamente la correzione no però la subframe selection sì la correzione no se utilizzate gli stessi dark vieni qui su scusate il mio aghetto si è particolarmente in nervosito oggi e vi dicevo in tal caso nel modo cromatico diventa molto più complesso qui vado a utilizzare l'output directory e ovviamente poi in image integration vi dovete assolutamente ricordare di fare una cosa perché riprendiamo image integration qui su normalization mettete local normalization e gli dovete andare a dare i file add local normalization file che vi genera questo processo qui stessa cosa qui sulla pixel rejection questa è una cosa che non vi dovete scordare allora allora ma il rosso no scusa ho detto non ho sbagliato non allenanza il filtro idas idas d2 ho sbagliato ho sbagliato a dire non il filtro allenanza quello l'ho utilizzato per la cuore questo è il filtro idas d2 vediamo ci sono altre domande nel frattempo 64 giga di memoria a me franco per la local normalization non mi sono bastati stasera ragazzi mi sono preso un po' d'acqua dell'altra volta mi stavo solamente sfiatando e vi dicevo Gianni sì Gianni ho sbagliato a dire non allenanza ma il filtro idas d2 questa è la diciamo il tipo di immagine che mi restituisce il filtro allora andiamo a chiudere tutto quanto il resto questo lo possiamo chiudere e questo lo possiamo chiudere eh se la massa più esposta l'ha messo il rosso lo ha dato quando avevo il massa effetto con il cane rosso più esposto degli altri ok questo è interessante dire se non ricordo male perché questo l'ho utilizzato sia con la D750 che con questa A66002 a mia memoria però dovrei dovrei riverificare mi ricordo che è sempre stato rosso come risultato che differenza c'è non facendo la local normalization allora la local normalization è qualcosa di molto importante soprattutto quando si ha si hanno dei gradienti di fondocielo o un fondocielo molto molto variabile nel corso della serata perché si può partire ad esempio da un soggetto che è basso e molto ridosso dell'inquinamento luminoso poi se è lo zenith ovviamente il gradiente cambia oppure c'è la luna e l'inquinamento luminoso oppure si fanno su serie diverse quindi condizioni diverse la local normalization fa proprio una normalizzazione locale quindi per regioni locali dell'immagine cerca di rendere quanto più uniforme il fondocielo tra le immagini ok allora vediamo se c'è qualche altra domanda se no passiamo direttamente passiamo allora alla fase lineare per quanto riguarda la fase lineare il primo step che faccio quando ho un'immagine del genere è il primo step è automatic background extractor perché utilizzare il DBE così è pressoché impossibile perché andare a trovare delle regioni dove ci sia il colore del fondocielo e cercare di capirci qualcosa non immagino il genere il primo step da fare è sicuramente una BE utilizzando una function degree di 1 quindi una spline che in realtà non è una curva ma è lineare una funzione bidimensionale lineare per calcolare il modello del del fondocielo e andare a utilizzare come target image correction subtraction lo andiamo ad applicare e andando ad applicare ovviamente quello che mi aspetto io allora intanto leggo qualche tempo fa nella calibrazione dell'immagine di passaggio ora utilizzo VBP allora io non ho molte persone me l'hanno chiesto suddente nulla contro né il weighted batch preprocessing che contro il batch preprocessing preferisco però fare la calibrazione a mano perché controllo ogni step se va tutto per il vesto giusto perché altrimenti se c'è uno script che fa tutto insieme alla fine mi produce un risultato che ha qualche problema riuscire a capire dove è il problema è molto più difficile che fare step dopo step perché se dopo la calibrazione vedo che c'è qualcosa di strano ok mi fermo subito se lo vedo dopo il debayering so dove intervenire eccolo lo reputo non la reputo o meglio non vedo un grosso grosso guadagno di tempo in tal senso quindi preferisco farlo a mano risultato finale no penso che se vengono impostati bene entrambi dovrebbero potrere lo stesso risultato perché usavano gli stessi processi sicuramente comunque ovviamente l'immagine la prima immagine che vado a ottenere è questa e questa qui invece è il primo ritorno che ho che ha sicuramente bisogno di una color calibration però c'è una cosa importante questa l'avevo fatta apposta l'avevo lasciata così se notate questa immagine ha una sorta di vignettatura e uno potrebbe pensare che i flat non hanno calibrato bene se vedete la maglia senza il rosso sì questo questo è vero però questa immagine è veramente terribile Oscar preferisco dare una prima o meglio quando faccio la riduzione di gradienti parto sempre con ABE una funzione lineare perché mi toglie il gradiente principale dominante almeno del mio cielo perché di solito c'è sempre un gradiente dominante che parte bene o male dalla stessa regione e si va evolvendo man mano nell'arco della serata in questa in questa immagine vi dicevo sembra che ci sia della vignettatura ma questo perché ho fatto l'errore di non fare il primissimo step che andrebbe fatto che è il dynamic crop perché se noi andiamo a fare la BE vi faccio vedere meglio l'immagine non so se la vedete ci sono queste parti in nero che se voi dimenticate di croppare la BE sbaralla facilmente quindi la prima cosa che volete fare è dynamic crop andiamo a prendere una zona a caso così e dopo di che su questo andiamo a fare la BE e vedrete che il risultato è ben diverso anche se avessi esteso quasi tutte le immagini il problema principale della della riduzione dei gradienti era il fatto che avessimo lasciato delle zone di nero dovute alla registrazione delle immagini quindi qui abbiamo sempre il nostro rosso e qui abbiamo la nostra M33 in questo caso io preferisco anzi sto preferendo quasi sempre anche per la banda stretta la photometric color calibration perché se impostate bene il valore dei filtri funziona decisamente molto bene quindi andiamo a chiudere intanto questa immagine tanto ce l'abbiamo salvata chiudiamo qui chiudiamo qui e chiudiamo qui e da all processes photometric color calibration in questo caso stiamo ciao bravato ciao ben arrivato allora sì allora mi leggo qualche domanda allora anche io faccio vpp marketing baserebbe stai sentito sugli altri link ai tre canali sì quello è vero la cosa migliore sarebbe quella ma tanto io comunque del gradiente me lo devo diciamo sbarazzare il prima possibile e preferisco partire sempre con la B e poi fare se ho dei residui di fondo cielo e quindi il fondo cielo diciamo è più complesso di quello che pensavo allora faccio una seconda passata con dynamic background vediamo se c'era il trovato togli la dominante iniziale uso il linear fit al posto di ABA qual è il metodo migliore? allora stiamo parlando di due cose diverse il linear fit serve per allineare le curve colore quindi per restituire un colore naturale la riduzione di gradiente invece serve per estrarre dal fondo cielo un valore di colore o di luminanza a seconda cioè un valore di segnale chiamiamolo così in generale che possa essere a colori o monocromatico a seconda della camera con la quale stiamo lavorando andarlo andarlo a sottrarre dal fondo cielo per avere un cielo uniforme quindi sono due processi diversi la BA il linear fit non ti potrà mai risolvere il problema di un fondo cielo disomogeneo se in questa immagine ci fosse un gradiente che va da qui verso sopra il linear fit ti allinea le curve di colori o meglio ti va ad allineare i punti di attacco delle curve però non ti può risolvere il problema di fondo cielo ecco ciao Daniele ben arrivato anche tu comunque questo risposto questo risposto allora dicevamo fotomaricol calibration in questo caso io andrei a utilizzare broadband come modalità perché ovviamente siamo con un filtro antinquinante luminoso comunque stiamo lavorando in banda larga white reference va benissimo per average spara galaxy e qui andiamo a dare le coordinate di m33 quindi le andiamo a cercare ci restituisce ascensione retta e declinazione la data di osservazione la reputo abbastanza irrilevante dopodiché metto la focale alla quale ho scattato siamo sì mettiamo 800 e pixel size 3.8 per il resto posso lasciarlo anche anche così anche se sarebbe per la background neutralization probabilmente se volessi farlo in maniera impeccabile dovrei andare a prendere il lower limit che potrei misurare ad esempio da prendiamo qualche stella ad esempio prendere un valore di una stella quasi diciamo vedo non vedo il minimo segnale della nostra immagine e andarlo a impostare come valore di lower limit lasciamo per il momento così a zero e andiamo ad applicarlo nel momento in cui andiamo ad applicare la photometric color calibration se l'avete già utilizzata lui andrà a interrogare un catalogo in questo caso se non sbaglio abbiamo scelto ok il database abbiamo scelto Strasburgo in Francia andrà a fare il solving dell'immagine a calcolare le stelle le classi delle stelle in quella immagine in funzione delle classi delle stelle va a fare una calibrazione colore naturale che funziona il 90% molto molto bene per capire se la photometric color calibration ha funzionato come si deve dovete vedere il grafico che vi restituisce sul white balance perché voi avete una retta più i punti quei puntini verdi si discostano dalla retta e più photometric color calibration ha avuto un po' di problemi a calibrare le classi delle stelle con la vostra immagine se invece i punti si distribuiscono bene sulla retta allora vuol dire che la photometric color calibration ha funzionato a dovere ma dopo questo passaggio senza che ci facciamo 5 minuti photometric color calibration partiamo questa è l'immagine che poi ci andrà a restituire e l'immagine di per sé di partenza comunque già vi ricordo per non so chi ha guardato la puntata su M33 queste sono all'incirca poco meno sì 5 ore di segnale di cui un paio di segnale davvero buono con la galassia in alto verso lo zenith perché all'inizio serata è abbastanza vicino è molto vicino alle luci della mia cittadina e quindi insomma il segnale che arriva non è proprio ottimale per essere 5 ore c'è una buona ricchezza di segnale soprattutto di colore delle nebulose di idrogeno che si trovano nei bracci a spirale la scelta che cosa dipende allora di solito io lascio sempre Strasburgo Francia nel caso in cui ci dovesse essere un problema di connessione o i server sono rallentati i databili sono rallentati allora ne prendo un altro cerco di prenderli in Europa prima e poi man mano di solito o Strasburgo o Cambridge o che altro ho usato c'è stata una volta che non funziona nemmeno uno mi sembra aver utilizzato Victoria in Canada ciao Mauro ben arrivato funziona anche se hai cropato l'immagine sì assolutamente sì quello che come si dice una cosa che vi consiglio di fare sempre è quello di guardare i tooltip quello che tendo a fare io se croppo un po' l'immagine è alzare un po' la lunghezza focale in questo caso ad esempio io sono in media a 710 metto a 800 ma non deve essere sballato per più del 50% quindi se avete fotografato a 1000 non potete mettere 2000 perché non vi funzionerà però anche se mettete 1200 o 800 funziona comunque molto intelligente ok vediamo se c'è altre domande mi scazza non so perché ho detto le lettere allora partiamo da Alessandro Curci ciao Alessandro avendo coperto la focale che usi sarà sempre quella nativa o magari gli aumenti per avvicinarti al nuovo formato l'immagine per la PCC la focale che usi sarà sempre quella nativa no allora io di solito croppo se c'è bisogno di croppare nel senso ovviamente croppo dove ci sono parti nere le immagini quelle assolutamente vanno croppate eliminate se ho ad esempio io lavoro a 700 mm di focale quindi sono a medio campo medio avanzato medio campo astrofotografico quindi ad esempio quando ho dovuto fare la nebulosa manubrio che è piccolina a 700 mm quello che faccio faccio molte pose poi vado di drizzol e in quel caso croppo per cercare di avere più dettaglio però ecco c'è sempre un limite risolutivo ottico del mio sistema anche perché dettaglio più di tot non si può avere perché siamo si è limitati anche all'apertura io sono con un 10 cm quindi non posso avere sicuramente il livello di dettaglio che può avere un 20 cm parliamo proprio di di basi dell'ottica del principio di rilic faccio un altro sorso altrimenti mi spiato allora ciao franco ci vediamo ci vediamo presto allora passiamo allo step successivo dopo la photometric color calibration quindi siamo qui la prima cosa che faccio io prima di fare qualsiasi tipo di alterazione dell'immagine è innanzitutto andare ad applicare anche se adesso ne parliamo a brevissima di questa cosa rgb working space questo è un metodo che avevo acquisito in passato ovvero quello di andare a dire a pixinsight e in particolare all'immagine che il coefficiente di luminanza è equamente distribuito tra i canali rosso verde e blu perché tendenzialmente con il pattern rggb il coefficiente è ovvio che sia più nel verde perché la matrice di Bayer le fotocamere a colori replicano il comportamento dell'occhio umano l'occhio umano calcola il valore il valore di illuminanza dal verde quindi alla stregua di quello una fotocamera a colori lavora con lo stesso principio arrivo subito Mauro quindi vado a dare 1 1 ed 1 e vado ad applicare l'rgb working space all'immagine selezionando l'immagine e poi dal menu a tendina vedete che ha ridistribuito i coefficienti di luminanza io pensavo che questa o meglio credo ancora che sia la strada giusta però ed era una cosa che raccomandava Juan del team di Pixinsight però in uno degli ultimi post se ritrovo il link ve lo giro assolutamente sui vari canali dice che effettivamente negli anni questa è una cosa che lui aveva introdotto all'inizio molti molti anni fa non so se voi sapete Juan Conipero che background ha ha un background di lui è un programmatore uno sviluppatore software con una forte preparazione e background su image processing lui lavora negli ospedali fa image processing per risonanze magnetiche e simili per risonanze magnetiche soprattutto e quindi negli anni è cresciuto ovviamente sia come programmatore come processatore di immagini e nel tempo si è un po' ricreduto se questo sul fatto se questo approccio effettivamente abbia senso se dia un reale beneficio quindi ecco andrebbe verificato sicuramente però sicuramente non fa danno forse un passaggio che potrebbe essere superfluo allora vediamo ora c'è un problema quando faccio dark flats ma anche con i lights mi dà dei puntini sembrano stelle ma non lo sono credo che il problema se non le faccio vedere sì se mi giri l'immagine forse sicuramente sicuramente meglio una volta fatto questo RGB working space vado a fare la deconvoluzione la deconvoluzione assolutamente va fatta prima anzi prima la deconvoluzione c'è anche l'estrazione della PSF dell'immagine la deconvoluzione va fatta assolutamente prima di fare qualsiasi riduzione del rumore o qualsiasi manipolazione del segnale dell'immagine perché la deconvoluzione funziona al meglio se perché deve recuperare il segnale laddove questo non esiste questo è sfocato o appunto c'è un blur nell'immagine la deconvoluzione quello che fa con la point spread function del media dell'immagine va a ricalcolare come doveva essere il segnale in quel punto che invece non si è mostrato così per via della turbolenza atmosferica è una cosa molto 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 complessa e sinceramente anche io capisco fino a un certo punto capisco a grandi linee la magia nera che c'è dietro ma se faccio già un passo più in là comunque anche io faccio molta difficoltà a capire la matematica che c'è dietro comunque sostanzialmente la teoria è che andando a utilizzare il processo Dynamic PSF noi dobbiamo andare a selezionare le stelle migliori della nostra immagine per stelle migliori intendo stelle che non siano sature che abbiano una una forma ottimale quindi no stelle oblunghe no stelle con artefatti o qualsiasi problema e dobbiamo andarle a prendere un po' da tutto il campo dell'immagine per avere una point spread function media dell'immagine non prendete stelle giganti non prendete stelle straminuscole prendete stelle ecco l'esempio che vi posso o meglio come agisco io di solito guardo l'immagine senza strecciarla e comincio a selezionare quelle stelle che sono diciamo visibili ad esempio come questa che sono visibili ma è palese che non sia bruciato il nucleo a differenza ad esempio non potrei mai prendere una stella come questa che è palesemente il nucleo è bruciato quindi la psf di questa è un altopiano capitozzato sicuramente non mi andrà ad aiutare quindi devo andare a selezionare le stelle e soprattutto se siete in una zona con dettagli nebulose o all'interno delle galassie non prendete quelle stelle prendetele all'esterno diciamo nelle zone un po' più isolate quindi che so andrò a prendere questa andrò a prendere questa qui andiamo a vedere un po' non ve le seleziono tutto comunque giusto per darvi un'idea andrò a selezionare questa e una volta arrivato di solito questa è una delle fasi in cui metto la musica e cerco di rilassarmi un po' mentre seleziono le varie stelle e arrivo cerco di selezionarne quanto più possibili certo non ne seleziono 200 però almeno un 50 un 50 60 stelle tendo a selezionarle per avere una una PSF quanto più realistica possibile dopo averle selezionate tutte faccio controlla e premo questa macchinetta fotografica che mi va a estrarre la PSF dell'immagine questa PSF è penosa ovviamente perché ha solo 3 stelle non è veritiera in alternativa c'è uno script che vi avevo girato già in nel video dedicato alla penso non mi ricordo se un video da qualche parte ve l'avevo ah no su Telegram ve l'avevo girato un po' di se non siete iscritti a Telegram avete Telegram iscrivetevi perché ogni tanto lì giro questi link utili c'è un repository di script di PixInsight all'interno del quale c'è anche questo script che si chiama PSF Image che poi troverete sotto render una volta installato e è molto comodo perché che cosa fa in base all'immagine gli dite la funzione di PSF e se non sapete qual è la PSF media o la funzione media della vostra immagine aprite Dynamic PSF selezionate un paio di stelle e vi rendete conto quali sono quelle preponderanti se prendete stelle se vedete che avete una preponderanza di gaussiane questo non va bene per voi ma se sono di tipo Moffat va molto bene quindi gli date la funzione gli fate fare l'evaluate dell'immagine quindi vi restituisce tutta una serie di informazioni full width maximum eccentricità eccetera e dopodiché vi seleziona le stelle migliori in automatico e vi crea una PSF è comodo funziona bene l'ho comparato con Dynamic PSF fatta a mano e sinceramente spesso lo utilizzo perché mi fa risparmiare tempo e fa esattamente quello che farei io una volta calcolata la vostra bella PSF facciamo finta che questa sia la nostra bella PSF che mettiamo qui andiamo a chiudere Dynamic PSF e passiamo alla deconvoluzione deconvoluzione che vi sconsiglio di utilizzare il metodo parametrico ma di utilizzare per l'appunto la funzione la point spread function esterna lo andiamo a selezionare da qui e questo è il primo step che vado a fare l'algoritmo Regularize Richardson Lucy è oramai uno standard de facto della deconvoluzione ovunque qualsiasi software utilizza questo algoritmo ci sono anche la Van Sittert e la Richardson Lucy che è la vecchia versione di quella regolarizzata che poi è stata diciamo aggiornata mai personalmente mai utilizzata in nessun'altra di queste funzioni vi dicevo come funziona la deconvoluzione se il link di lo script sarebbe gradito allora da qui mi sembra un po' difficile però potrei lo devo ritrovare ve lo linko poi ve lo rimetto anche sulle varie pagine ve lo metto anche sul gruppo di Astropeaks Community così sicuramente sarà utile anche agli altri la deconvoluzione cioè innanzitutto una cosa che ci tengo a dire è che io in passato personalmente secondo me facevo in maniera sbagliata la deconvoluzione ha bisogno di un'immagine di supporto che è sicuramente la star mask e io utilizzavo anche un'altra immagine di supporto che era una maschera di luminanza che andavo ad applicare all'immagine quindi come procedevo andavo a estrarre la luminanza dopodiché process screen transfer function andavo a stracciare l'immagine histogram transformation eccolo qui andavo a trasferire la transfer function andavo a rendere lo stretch permanente e dopodiché applicavo la mia bella maschera di luminanza qui per proteggere il fondo cielo a favore del segnale in realtà la la deconvoluzione non ha bisogno di questo la deconvoluzione è stata concepita per funzionare senza maschere e il motivo per cui funziona così è appunto per via dell'introduzione della regolarizzazione dei wavelet e come vedete qui avete anche il modello di rumore gaussiano solitamente funziona funziona bene Poisson non l'ho mai utilizzato il gaussiano ma sempre funzionato bene però è qui che dovete proteggere o meglio dovete impedire che la deconvoluzione vada ad agire anche sull'area di rumore quindi innanzitutto dovete sapere dove risiede il rumore nella vostra immagine vi potete aiutare ad esempio con script se non sbaglio dov'era 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 utilities wavelet c'è lo script quello che estrae eccolo qui image analysis extract wavelet layers questo ad esempio questo script è molto utile perché potete far estrarre a PixInsight i vari wavelet layer della vostra immagine i wavelet layer sono un wavelet è una funzione che esprime un livello di segnale in base dal dettaglio più piccolo al dettaglio più grande quindi wavelet 1 è il dettaglio più minuto della vostra immagine wavelet 6 è quello più macroscopico è molto simile per chi ha un background matematico alla trasformata di Fourier ma la differenza con la trasformata di Fourier è che la trasformata di Fourier non funziona bene in regioni o meglio in contesti dove c'è troppa variazione di segnale immaginate un guardate un'immagine che è questa avete fondo cielo poi stella poi nebulosa il segnale varia tantissimo la trasformata di Fourier non funzionerebbe il wavelet è un'evoluzione trasformata di Fourier che funziona su questo genere di dato piccola nozione per chi non sapesse che cosa è un wavelet quindi una volta capito dove risiede il vostro umore o anche la deconvoluzione richiede molto tempo perché richiede molte prove molti errori e quindi molte iterazioni ecco partiamo dal deringing prima cosa che volete abilitare è il deringing lasciamo per un attimo da parte la parte delle stelle della star maschera anche perché ci servirà sicuramente ma ci arriveremo tra un attimo qui abbiamo due valori fondamentali global dark e global bright mentre il global bright nel penso il 99% dei casi non deve essere toccato o se deve essere toccato avete veramente valori bassissimi tipo questo se avete valori alti probabilmente state facendo qualcosa di sbagliato perché il global bright va a intervenire nelle regioni dove nelle regioni più scure delle immagini chiamiamo così dove c'è un segnale molto molto debolo delle strutture scure per l'appunto tipo delle nebulose scure ecco il global dark invece interviene dove sembra un po' contraddittorio che funziona funziona il global dark funziona dove ci sono regioni ad alto segnale ed è quello che va a creare gli artefatti più antipatici di tutti andiamo a vedere perché prendiamo ad esempio questa regione d'immagine e andiamola ad applicare così com'è con questo valore folle che è stato impostato da Pixinsight di default la prima cosa che vedete quando cominciate a vedere quelle scritte viola di divergenza vuol dire che sta andando veramente a farsi bene dire la deconvoluzione e quando avete un valore sbagliato di local dark quello che succede si vanno a formare questi aloni chiamiamoli questi artefatti luminosi attorno alle strutture più chiare quindi io di solito quello che faccio conosco un po' quando conosco la mia camera so quale può essere un valore dal quale posso partire nel mio caso 00 05 potrebbe essere un buon valore di partenza e volete tenerlo il come si dice il più o meglio volete evitare che si formino i dark ring attorno alle vostre stelle soprattutto dove si vanno a formare più spesso e che non si formino nemmeno anelli chiari come avete visto prima ad esempio se io andassi a mettere 001 mettiamo un valore molto basso per intenderci andando a mettere un valore così basso quello che si va a formare è proprio questa cosa molto orribile ovvero questi anelli perché va a erodere troppo la deconvoluzione nel recuperare il segnale quindi quello che faccio io parto da un valore di riferimento e poi tendo a dimezzare vado per dimezzamenti 005 funziona troppo chiaro ok di mezzo troppo scuro ok faccio il valore intermedio e vado diciamo per metà mi muovo un po' in maniera diciamo mediana tra i vari valori quindi nel mio caso nell'immagine ad esempio qui era 005 era il valore giusto e local dei ringhi è qualcosa che serve a proteggere le stelle che sono quelle che soffrono di più soprattutto quelle più sature della deconvoluzione per creare una star mask per la deconvoluzione quello che faccio io è andare su all processes star mask ovviamente la scala dell'immagine so in questo momento che la scala dell'immagine è 6 tendo a produrre una una maschera abbastanza base con 0 e 0 in larga scala e scala piccola e 2 compensazione questo perché preferisco utilizzare poi una seconda tecnica per andare allargare un po' i core delle stelle come valore di smoothness di solito imposto 10 binarize perché la voglio bella contrastata bella forte questa star mask e tendo sempre a comprimere un po' l'istogramma della star mask per renderla ancora più contrastata quindi vado a mettere i midtones a 0.6 per la noise threshold la lascio con il valore di default questo perché voglio includere quante più stelle possibili il problema è che se io vado a misurare ad esempio con con la noise threshold vado a misurare il valore della stella diciamo meno luminosa e quindi ho un valore di noise threshold molto alto il problema è che poi le stelle più grandi tendono a non essere incluse perché essendo grandi hanno un valore di soglie a rumore ben diverso e al di sotto di quello soprattutto la parte più larga e le stelle non vengono incluse una volta ottenuta la star mask quello che faccio innanzitutto vado a sovrapporre la star mask alla mia immagine per vedere quanto protegge sembra proteggere abbastanza bene se volessi essere un po' più conservativo però devo fare attenzione con la deconvoluzione perché se le stelle sono troppo più grandi rispetto a quello che sono poi nell'immagine ho problemi sicuramente anche con la deconvoluzione però quello che posso fare è andare su morphological transformation andare a utilizzare deletion utilizzo un paio di un paio di iterazioni e provo ad applicare così come per diciamo far ingrandire un po' le stelle e successivamente quello che vado a fare vado ad applicare una convoluzione quindi vado a sfocare l'immagine vado a utilizzare sempre i valori default solitamente mi funziona abbastanza bene se ad esempio andando ma diciamo che così potrebbe andar bene mi sembrano un po' troppo grandi così a occhio forse due iterazioni sono un po' troppe però in questo caso ho una maggiore protezione delle stelle allora leggiamo Marco ti è mai capito quella di convoluzione di rendere alcuni picchi di rumore più luminosi e quindi dopo non riusci più a eliminarli con la riduzione del rumore picchi di rumore più luminosi mi spieghi meglio Luca cosa intendi picchi di rumore luminosi perché non mi è chiaro il concetto comunque questo diciamo è quello che si può fare per una star mask per renderla un po' più protettiva invece che utilizzare la small scale large scale perché preferisco che agisca un po' su tutta l'immagine questa dilation di morfological transformation andando a applicare la star mask vediamo un po' no tra l'altro non devo applicare scusate non devo applicare la star mask la devo andare a utilizzare qui dentro la deconvoluzione vado ad utilizzare in local support andiamo a mettere la nostra star mask e come local amount partiamo da 0,70 vediamo come si comporta allora andando a vedere l'immagine questo è prima e dopo il problema qui è che vedete ci sono degli aloni un po' chiari quindi 0,05 forse è un po' troppo alto 0,04 dovrebbe funzionare meglio tecnicamente penso che dovrebbe essere il suo valore almeno conoscendo un po' la camera si vedete prima e dopo quello che forse si potrebbe anche abbassare di un pelo quello che noterete è che la deconvoluzione tende a recuperare i nuclei delle stelle più sbiadite che sono diciamo le stelle di magnitudine minore rispetto rispetto a quelle che dominano le immagini questo è utile perché poi con la riduzione delle stelle si ha una PSF più organica più uniforme e restituisce un risultato migliore quello che voglio tenere sott'occhio è anche il fondo vedete come lavora bene anche senza maschera di luminanza se voi guardate bene le zone del rumore la wavelength regularization già con i valori default funziona molto bene perché vedete che il rumore non viene praticamente toccato in queste regioni quindi funziona già molto bene però vi consiglio di perderci un po' di tempo di sperimentare con questi valori e cercare ovviamente il valore migliore che vi restituisca l'immagine più pulita ultima nota sulla deconvoluzione anche se meriterebbe un tutorial a parte è che il local amount personalmente io cerco di tenerlo il più basso possibile fin quando non perché voglio che la deconvoluzione intervenga sulle stelle voglio proteggerle non voglio artefatti però voglio che comunque la PSF sulla PSF delle stelle mi vada ad intervenire in questo caso io abbasserei ancora un po' il global dark mettiamo un programma 003 ne vediamo un po' cosa succede ok credo che questo sia il suo valore perché ho recuperato le stelle di fondo ho recuperato delle regioni di segnale qui come vedete in queste nebulose di idrogeno ovvio forse in queste immagini non diciamo che il rapporto segnale rumore è scarso perché per 5 ore questo si nota moltissimo ad esempio quando faccio la deconvoluzione sull'Hα mi è capitato sul muro del cigno con 8 ore di Hα è impressionante quello che la deconvoluzione riesce a tirare fuori in questo caso poco o niente infatti l'ho fatto in queste immagini più per recuperare un po' la PSF delle stelle che non per altro comunque dopo aver trovato la quadra solitamente mi attengo sulle 20-30 di tre azioni cerco di non andare oltre anche perché poi il valore di convergenza che vedete ho paura a far partire la deconvoluzione perché su queste immagini essendo un mio pixel non vorrei che poi mi uccida lo streaming però quello che vi volevo far vedere nella console qui ci sono le varie iterazioni e il valore che dovete tenere d'occhio è S perché scusate S deve scendere nel tempo più iterazioni fate e più S deve diminuire questo è fondamentale è quello che la deconvoluzione fa quando converge verso un punto vuol dire che sta andando bene quando comincia a divergere allora vuol dire che si sta sbarellando completamente e vi restituirà sicuramente molti artefatti non so se ci sono domande avete tenuto la star mask l'ho tolta l'essendo scusate prima mi sono distratto un attimo l'ho applicata no no assolutamente io non uso più nessun tipo di maschera sulla deconvoluzione prima utilizzo la maschera di illuminanza ma in realtà la deconvoluzione funziona e deve funzionare con la regolarizzazione senza maschera di illuminanza sì no è vero Massimiliano è perché nel tempo un po' come tutti mi evolvo non ho la possibilità poi di ovviamente di ritornare su quel video e riscrivere dovrei effettivamente dovrei ritornare su quei video e aggiungere dei commenti su come ho cambiato il mio workflow e questa secondo me è una cosa che sicuramente dovrei fare però ecco è vero che alcuni passaggi in quei tutorial sono un po' diversi soprattutto anche per la deconvoluzione se non ricordo male la utilizzavo ancora una maschera di illuminanza fatta la deconvoluzione supponiamo che la deconvoluzione sia stata bella che fatta passo alla riduzione del rumore riduzione del rumore che per questa immagine ho utilizzato multiscale no scusate ho utilizzato TGV The Noise per TGV The Noise mi vado ad avvalere di questa immagine qui scusate faccio un po' di spazio tra tutte queste finestre il TGV The Noise è quello che secondo me per la riduzione del rumore funziona meglio in assoluto prima cosa che faccio vado ad estrarre un'immagine vado ad estrarre la luminanza dall'immagine vado a strecciarla permanentemente dopodiché prendo il processo statistics e nell'immagine di luminanza vado a selezionare una piccola preview del fondo cielo va bene anche di questa dimensione in statistics vado a selezionare quella preview qui non c'è la deviazione standard che è il valore che mi servirà poi per la edge protection di TGV quello che faccio vado qui scusate sulla chiave inglese e gli dico di mostrarmi anche la deviazione standard vado a leggere il valore di deviazione standard che non posso copiare da qua quindi vado ad aprire questa finestra copio il valore di deviazione standard e apro TGV the noise TGV the noise è un processo che spesso intimidisce intimidisce le persone allora sì esatto esatto Maurizio vi ho fatto vedere come produco vi ho fatto vedere che produco la maschia di luminanza perché prima la utilizzavo ma adesso non la utilizzo più mi serve semplicemente per restare una star mask che reputo più facile in un'immagine non lineare ok allora dicevo intimidisce però innanzitutto io lo vado a utilizzare in modalità CE luminanza e A e B per la crominanza prima cosa vado a disabilitare la crominanza perché preferisco lavorare su un canale alla volta mi vado a selezionare una regione di cielo ad esempio qui dove ho sia un po' di galassia a volte faccio anche spesso faccio più più preview per vedere i vari risultati il valore di edge protection che vado a mettere è quello che mi sono copiato dalla deviazione standard vado a dare invio come valore di strength io di solito parto da un esponente meno 2 e con 5 il valore di default che solitamente non funziona però parto con questo vado ad applicare il TGV diciamo che questa riduzione è decente però per alcuni versi la reputo un po' troppo aggressiva per la fase lineare questo perché una cosa che non mi piace è quando nella riduzione del rumore si cominciano a creare questi pattern un po' fastidiosi come non so se si riesce a vedere da YouTube ma si cominciano a creare questi pattern sono un po' come io li chiamo spesso dei tunnel dei tunnel di rumore e sono un po' sgradevoli quindi preferisco andarci più cauto soprattutto in immagini che non ha un rapporto segnale rumore ultra eccellente e poi eventualmente in fase non lineare do una seconda passata con la CDNR quindi ad esempio in questo caso proviamo 3 senza perdere troppo tempo con 3 sono più contento perché la riduzione mi sembra più naturale è vero la grana è andata via ma ci sono meno di o anzi sono quasi del tutto assenti quei tunnel di rumore fatta la luminanza la disabilito temporaneamente poi mi dedico alla crominanza le faccio separatamente edge protection utilizzo lo stesso valore e attenzione scusate ho mancato una cosa fondamentale una cosa molto molto importante per il TGV The Noise ed è per quello che ho sono andato a creare un'immagine di luminanza e l'ho strecciata permanentemente è utilizzare non utilizza maschere TGV The Noise ma utilizza un'immagine di supporto l'immagine di supporto che alla fine non è nient'altro che una maschera nel modo in cui si comporta ma non va applicata qui semplicemente gli va data selezionata qui all'interno di local support è qualcosa che perché altrimenti vedete che è intervenuto anche sulle nebulose cosa che non dovrebbe assolutamente fare rivediamo un attimo come era questo era prima e dopo vedete che è andato a intervenire anche sulla nebulosa e questo assolutamente non lo deve fare quindi ridiamo Apply su Lightness e adesso invece mi aspetto che la parte della nebulosa venga toccata praticamente quasi per niente solo un po' nella parte del bordo stessa cosa poi faccio per la crominanza per la crominanza è identico il processo si è un po' più aggressivi 7 forse è un esponente di 2 proviamo 7 vediamo un po' come va anche qui TGB richiede diversi passaggi di test vediamo che la crominanza è abbastanza viene abbastanza abbattuta qui forse c'è anche un po' di residuo che si potrà togliere con SCNR però ecco bisogna fare attenzione anche qui perché se si è troppo aggressivo la luminanza vedete che cosa può succedere sul bordo delle stelle lo abbasserei un pochino lo porterei a 5 e poi eventualmente andrai ad agire con SCNR per rimuovere il residuo dopo di che le provo tutte e due insieme e vedo un po' se il risultato finale mi soddisfa adesso sto andando un po' un po' veloce ci dovrei perdere più tempo però ecco è come cerco di agire sicuramente mi restituisce un'immagine più pulita l'algoritmo che usa TGB sta per Total Generalized Variation è secondo me particolarmente indicato per soggetti dove c'è una variazione generalizzata del segnale come nelle galassie che abbiamo queste regioni ad alto segnale poi basso segnale poi abbiamo il core secondo me funziona molto bene meglio DMLT Multiscale Light Transform che utilizzo molto molto spesso perché è più veloce però in queste situazioni preferisco prendermi un po' di tempo e utilizzare TGB una volta applicato TGV che non applico sempre per evitare di bloccare la diretta procedo allo stretching per questa immagine ho fatto uno stretching abbastanza standard con la Screen Transfer Function e Instagram Transformation ovviamente dopo aver fatto la riduzione del rumore l'auto stretch cambierà in maniera drammatica perché si basa ovviamente sul rapporto segnale rumore dell'immagine quindi potreste avere un'immagine più contrastata e dovreste lavorarci un po' perché secondo me esagera Pix Insighting nella fase di stretching vado ad applicare la Screen Transfer Function mi vado ad aprire l'anteprima dell'immagine fate attenzione che non avete nessuna maschera applicata perché se avete una maschera applicata state strecciando solo la zona con la maschera a me è capitato ma ve ne accorgete subito perché l'immagine è una porcheria assoluta quindi andiamo a vedere l'anteprima togliamo l'auto stretch una volta che abbiamo trasferito la Screen Transfer Function qui e andiamo a selezionare l'immagine M33 Start così da vedere l'istogramma e vedere come stretciarla qui lo stretching è per alcuni versi molto soggettivo perché dipende da che tipo di immagine volete produrre se amate immagine alto contrasto immagini con colori più tenue quasi pastello ecco si va molto sul soggettivo però ci sono alcune cose oggettive che dovete evitare ad esempio questo sicuramente non dovete non dovete croppare troppo e non dovete rendere troppo scuro il fondo del cielo innanzitutto un vostro grande alleato è questa parte qui dove avete le ombre shadows questo vi da una percentuale dei pixel che state clippando 0.4 è ancora accettabile ma se cominciate ad andare 1.3 insomma comincia ad accendersi un po' la spia 13% mi sembra decisamente troppo già a vederlo a occhio qui abbiamo un segnale troppo troppo croppato e questo non va bene quindi quello che tendo a fare io se voglio scurire un po' l'immagine è lavorare sui midtones e andare a comprimere di più l'istogramma quindi l'immagine si scurisce si crea un po' più di contrasto certo uno mi potrebbe dire sì però stai perdendo un po' delle spirali esterne è vero ma non posso pretendere di recuperare quella parte di segnale con 4-5 ore di acquisizione perché o recupero quello però porto fuori anche il rumore oppure forse è meglio che quelli li tengo un po' in sordina però non mi porto il rumore dietro quindi idealmente proprio facendolo in maniera molto rapida questo per me già potrebbe essere un buon punto di partenza ci potrei giocare un po' ma tanto poi con le curve ci andrò a lavorare più tardi quindi supponendo di aver fatto riduzione del rumore e tutto andiamo a strecciare la nostra immagine e da qui diciamo che la mia aspetta Nicola c'è ragazzi finiscono di vedere il video domani no Nicola orca miseria comunque questi ragazzi del Veneto vanno a letto veramente presto va bene ciao Nicola ci vediamo domani ci sentiamo domani vi dicevo in questa fase non lineare mi limito a essenzialmente tre cose principali la prima è la riduzione delle stelle che faccio subito poi vado a aumentare un po' i dettagli e il contrasto dell'immagine utilizzando il processo local histogram equalization e infine vado a agire sulle curve colore luminosità vado insomma a lavorare un po' sul contrasto generale dell'immagine e a volte come in questo soggetto sono andato ad utilizzare anche exponential transformation per tirare un po' più fuori la struttura del nucleo vediamo rapidamente la riduzione delle stelle riduzione delle stelle ho cominciato ad utilizzare un approccio un po' diverso rispetto a quello che facevo prima di solito faccio due step prima cosa ovviamente vado a produrre una star mask una prima star mask quindi chiamo queste immagini prendo star mask process star mask vado a generare una star mask così come l'avevo generata prima quindi mi genero la mia star mask e faccio una prima riduzione delle stelle per erodere o meglio per creare una una forma delle stelle un po' più un po' meglio distribuita diciamo così quindi laddove ci sono dei core molto molto saturi ecco abbastanza saturi cerco di ridurli un po' in modo tale che il secondo step dove vado a erodere le corone delle stelle possa quello step possa essere più efficace quindi applico la mia star mask morfological transformation morfological selection di solito una due iterazioni ma molto molto leggero ripeto vi faccio vedere anche dall'anteprima togliamo l'auto stretch ad esempio una mount di 1 una size di 5 forma così quindi circolare che è sinceramente la forma che preferisco e che sembra funzionare meglio e vedete che è molto molto leggera come prima fase di riduzione non deve essere niente di che diventano un po' più fioche perché la parte più importante lo step più importante arriva nella seconda fase quando invece faccio una star mask diversa molto più aggressiva innanzitutto mi vado a leggere cosa che scusate avrei dovuto fare anche prima il valore per la noise threshold ad esempio prendiamo questa stella qui e potrebbe essere un buon punto di riferimento 0,37 quindi diciamo quando leggo 0,37 di solito parto da 0,3 cerco di arrotondare il valore più basso perché sicuramente c'è qualche stella ad esempio come questa che è 0,2 addirittura però questa è 0,3 quindi ecco come valore di riferimento prendo quella per la seconda fase di riduzione delle stelle invece vado a creare una maschera che sia una maschera di contorni molto molto contrastata ecco smoothness 5 molto bassa mid tones mi mantengo molto basso addirittura 0,15 voglio che sia veramente molto molto contrastata a volte se voglio fare mettiamo in questo caso volessi fare un'elaborazione un po' più morbida 0,2 0,25 non di più proviamo 0,25 facciamola più morbida questa volta applico la star mask è un po' un po' un po' di patienza ragazzi perché questa star mask richiede un sacco di tempo beh odio forse questa star mask vediamo un po' mi sembra un po' esagerata effettivamente mi sembra decisamente molto esagerata quindi va alzata la soglia rumore perché ha preso un po' troppo rumore di fondo quindi andiamo a dare 1,04 che mi sembra più appropriato tanto non so se ci sono domande mentre questo processo procede ho visto che è già passata quasi un'ora e mezza però non manca moltissimo ok meglio sicuramente meglio vediamo sì perché ci sono molte stelle piccole effettivamente che sono davvero piccolissimi percettive potrei alzarla ancora potrei alzarla ancora di più sicuramente però per non perdere tempo diciamo forse 0,5 potrebbe essere il valore migliore andando ad applicare questa star mask il secondo step che faccio di riduzione delle stelle è utilizzando sempre Morphological Selection però più iterazioni vado sulle quattro iterazioni un amount più basso l'amount serve molto ad avere una fusione tra quello che era la stella pre Morphological Transformation e quella che è la stella dopo quindi tende a produrre una transizione più morbida del valore che poi viene applicato a Selection quindi qui darò 0,75 e proviamo con 0,25 stessa forma delle stelle andiamo a prendere la nostra anteprima se no piantiamo la live e vediamo un po' qui l'effetto prendiamo questa stella come riferimento vedete la corona come viene ridotta la riduzione delle stelle ragazzi non deve essere una cosa folle questa stella non deve diventare un pixel e la riduzione serve per attenuare la presenza del campo stellare nell'immagine e far emergere il soggetto in questione con due fasi con una prima fase che attenua la stella e quindi va a creare una distribuzione migliore chiamiamola migliore tendente una PSF più ideale della singola stella e poi andarne ad erodere con ovviamente con delicatezza le corone queste stelle si rimpiccioliscono sempre e non ti preoccupare Alessandro metterò anche questo script c'è uno script che fa esattamente questa cosa qui c'è un un passaggio in più che in realtà potreste fare per generare una star mask di contorno migliore ed è questo invece che andarlo a generare direttamente sull'immagine in questione potete creare una copia dell'immagine seguitemi bene in questo passaggio perché è molto semplice e può fare la differenza create una copia dell'immagine prendete il processo HDR Multiscale Transform e andiamo a mettere tre layer vogliamo comprimere il range di ambie perché vogliamo appiattire un po' l'immagine in modo tale da produrre una maschera di contorno migliore mettiamola così fondamentalmente vediamo un po' andando ad applicare HDR Multiscale Transform vedete come l'immagine si appiattisce e su questa adesso noi possiamo decidere di creare la Star Mask quindi diciamo ci sono due approcci se come nel mio caso adesso la stavo riguardando la Star Mask non mi soddisfaceva avrei utilizzato sicuramente questo approccio se lo utilizzate sempre non sbagliate però se volete andare un po' più veloci potete saltare questo passaggio qui allora le maschere sono diciamo a occhio sono pressoché identiche quindi non mi ha prodotto un risultato chissà quanto migliore però in alcuni casi produce un risultato migliore ad ogni modo fatta la riduzione delle stelle passo alla alla Local Instagram Transform Local Instagram Equalization scusate e una cosa molto importante di un processo che sostanzialmente è molto semplice è di creare la maschera giusta allora Mirko io il DBE fondamentalmente sono stati pochi i casi in cui ne ho avuto davvero bisogno perché solitamente con un ABE fatto bene almeno dal mio cielo riesco tranquillamente a rimuovere il il gradiente di fondo cielo se c'è un gradiente chiaro ovviamente se ho un gradiente più complesso ci sono alcune regioni soprattutto quando punto verso sud-est dove ci sono delle luci un po' più così un po' più fastidiose allora in quel caso utilizzo il DBE DBE andrebbe fatto un discorso a parte probabilmente per la live di questa sera poi si prolungherebbe troppo però sostanzialmente quello che faccio parto dai quattro angoli e dalle posizioni mediane dei vari lati dell'immagine e poi comincio ad aggiungere un po' di punti per volta non vado mai oltre i 20 30 punti anche perché si rischia poi di creare un modello del fondo cielo che sia come si dice vada a sovracorreggere l'immagine quindi bisogna fare un po' di step per volta però ecco DBE è molto complesso come strumento come saprai anche tu quindi bisognerebbe parlarne proprio in una puntata a parte comunque si generalmente lo usavo molto di più prima però mi sono reso conto che l'ABE con una funzione lineare di primo grado già fa il suo lavoro alla grande dicevamo localistogram equalization prodotta la maschera illuminanza quello che vogliamo fare è produrre un'altra star mask perché localistogram equalization non vogliamo applicarla sulle stelle perché tende a inciacciottirle tende a renderle troppo più sature quindi solita star mask in questo caso andiamo a generare una star mask con smoothness 10 finalize qui rimettiamo una star mask chiamiamola abbastanza tradizionale per i miei gusti qui lasciamo forse 0.4 no perché ho paura che non includa alcune delle stelle più grandi proviamo con 0.3 ci sono altre domande no ok allora questa è la mia maschera di stelle ok ci sono mi sembra sovrapponendo le due immagini mi sembra che ci siano bene o male tutte e quello che vado a fare adesso con pixel matte vado a sottrarre le stelle dalla maschera di luminanza la formula è molto banale mi vado a copiare l'identificatore della vista e facciamo la maschera o meglio l'immagine di luminanza per la star mask molto banale come molti di voi sicuramente conosceranno questa formula destinazione creiamo una nuova immagine e andiamo a dare applica probabilmente il modo migliore anche in questo caso sarebbe quello di andare a utilizzare morfological transformation per ingrandire un po' di più le stelle perché vedete alcuni aloni delle stelle più luminose sono rimaste fuori quindi ovviamente queste verranno influenzate dai processi se volessi farlo rapidamente vediamo se ci riusciamo morfological transformation andiamo a dare dilation andiamo a dare tre iterazioni uno ne applichiamolo qui vediamo un po' come si comporta ok processi deconvoluzione no scusate convoluzione convoluzione anche un paio di volte di convoluzione e dopodiché proviamo a fare la stessa cosa con la star mask vediamo che ok meglio anche se questi buchi neri proprio non anche qui ci sono vedete alcuni quelli sono rimasti un po' così non è proprio il massimo della maschera che utilizzerei forse un pelo meglio di quell'altra probabilmente ho esagerato con dilation perché questo va a creare un po' di problemi così ad ogni modo applicando questa maschera vado sempre a prendere un'anteprima prendo la zona centrale e vado a utilizzare localistogram equalization localistogram equalization andiamo ad aprire l'anteprima allora uno è sempre per me troppo troppo forte aspettatevi chiudo un po' di finestre uno è troppo troppo forte darai un 0,6 di solito 0,5 0,6 un buon valore di partenza vado sempre a vedere la differenza prima e dopo il kernel radius in un'immagine come questa che è una galassia che comunque ha delle strutture molto larghe cioè guardiamo comunque i livelli di wave larghi secondo me 64 è un po' poco perché si tendono a creare microcontrasti troppo troppo piccoli che a me personalmente non piacciono quindi lo raddoppierai a 128 e vediamo la differenza rispetto a 64 128 da una distribuzione più omogenea di questo di questo contrasto di immagine che personalmente preferisco però è una preferenza personale non è una scienza esatta quando si arriva su questi processi va molto a preferenza personale eccezione fatta per quelle cose che oggettivamente distruggono proprio l'immagine quindi una volta applicata la mia localist trovata la mia localist la vado ad applicare allora intanto mi vedo un po' domanda hai mai provato ad utilizzare la starmask creata dal tool starnet io lo so per la riduzione anche se provate sì allora non sono un grande fan di starnet perché starnet secondo me funziona molto bene quando ci sono immagini con un alto rapporto segnale rumore altrimenti insomma non mi ha prodotto sempre buoni risultati per quanto riguarda invece immagini senza stelle anche lì ci vuole un rapporto segnale rumore spaventoso soprattutto funziona bene per immagini a banda stretta ma per il broadband non saprai ad ogni modo sì con starnet si possono creare delle maschere di stelle anche se quando le stelle sono all'interno di una struttura come la galassia nebulosa secondo me la starmask di pixelmat funziona meglio isolare quelle regioni ciao bravado ciao 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 comunque ultimi step ultimissimi step in questo caso potrei decidere di rigenerare una nuova maschera sempre partendo da maschera di illuminanza e sto traendo la starmask perché le stelle non voglio più toccarle facciamo finta che l'abbia fatto per velocizzare un po' il tutto immaginiamo che questa sia la mia nuova maschera e quello che voglio fare prima di lavorare sulle curve è quello di andare a contrastare un po' di più questa immagine andare a scurire soprattutto la parte di fondo cielo quindi quello che vado a fare vado a utilizzare curve transformation in rgbk e vado a creare una sorta di maschera così quindi dove il nucleo è in evidenza però il resto è quasi tutto diciamo messo messo a protezione dalla maschera vado ad applicare la maschera alla mia immagine e adesso procedo con le curve prima cosa che faccio do un tocco di saturazione in realtà non faccio molto sulle curve do un tocco di saturazione per mettere ad esempio in evidenza le regioni di idrogeno posso dare un piccolo tocco sulla componente rgbk perché è un po' più di contrasto anche se poi utilizzerò exponential transformation per il resto nient'altro io non sono uno che smanetta molto con le curve anche perché non lo reputo necessario anzi a volte si esagera troppo secondo me a rischiare il crash con il professor ok allora devo stare più attento comunque applicate le curve quello che potrei fare in queste immagini è exponential transformation andiamo a vedere alt process exponential transformation dovrebbe funzionare abbastanza bene mi ricordo averlo utilizzato qui forse uno è un po' troppo perché vedo che si verificano dei piccoli artefatti quindi andiamo ad abbassare l'ordine di potenza andiamo su 0.5 e uno smoothing di solito mi mantengo tra il 5 e il 7 come valore andiamo a prendere 6 e vabbè 6.25 va bene vediamo prima e dopo si crea un po' più di di contrasto a livello di immagini forse tira fuori alcuni artefatti di ringing che non mi piacciono molto almeno in queste elaborazioni quindi per il momento lo tralascerai perché probabilmente mancano tutti i passaggi che vengono prima di deconvoluzione riduzione del rumore eccetera quindi ovviamente abbiamo un'immagine un po' raffazzonata però ecco avrei applicato exponential transformation ultimissimo ultimissimissimissimo tocco scusate che vado a fare quando anche se in questa M33 non ce ne sono moltissime però ci sono delle regioni di polvere intestellari e polvere più oscure vado a utilizzare uno script che mi piace molto soprattutto quando ci sono nebulose oscure che è l'ottorale sotto script utilities dark structure enhance questo script quello che va a fare va a dare un boost alle regioni più oscure del vostro soggetto funziona molto bene con i valori default sul layer da rimuovere e la funzione di scaling però sull'amount 0.4 secondo me è troppo in un'immagine del genere 0.1 con due iterazioni è più che sufficiente non lo applico perché vorrei evitare di far crescere qualsiasi cosa vi apro l'immagine finale che ovviamente è un po' diversa da questa elaborazione rifatta qui al volo abbiamo M33 and dovrebbe essere questa qui questa è quella che poi qui adesso tra l'altro riguardando l'elaborazione probabilmente nello stretching avrei potuto stare un po' più basso di profilo perché qui il rapporto segnale del rumore non è altissimo però ecco con qualche ritocco non so se poi ho aggiustato un po' anche in Lightroom alcune cose relative alla luminosità non c'è differenza quindi questa è praticamente identica questo è tutto un po' il mio workflow non so se avete domande sono passate un'ora e 42 sono stato abbastanza veloce nonostante tutto se avete domande oppure se avete notato differenze ditemelo perché mi fa piacere se ci sono anche cose che io totalmente ignoro al momento su cose che faccio che probabilmente si potrebbe fare diversamente ditemelo perché stiamo facendo la live apposta per questo motivo comunque generalmente un'elaborazione richiede molte molte più ore rispetto a quelle che abbiamo speso all'ora e 42 che abbiamo speso oggi anche perché si elabora si fanno varie prove poi si riguarda l'immagine si rielabora da capo prima di arrivare personalmente a un'immagine che mi soddisfa di solito faccio almeno due o tre elaborazioni diverse perché poi dipende anche da come si sta mentalmente se si stanchi mentalmente a volte si saltano dei passaggi oppure si fanno dei passaggi un po' troppo velocemente che poi si ripercuotono sulla parte dell'elaborazione della tarde elaborazione dell'immagine ci sono domande o considerazioni eccetera fatemi fatemi sapere altrimenti non so non penso di aver saltato niente della mia della mia scaletta ecco fatemi vedere se c'è qualcosa intanto no penso di aver detto assolutamente tutto almeno di quello che utilizzo per la maggiore altri processi che uso starnette raramente come mi ha chiesto qualcuno a sharp mask a volte lo uso se a fine immagine vedo che soprattutto le stelle quelle più piccole hanno tendono ad avere i nuclei quasi quasi sfocati ecco è un processo del quale mi avvalgo in queste situazioni altra roba SCNR non l'abbiamo visto ma è un processo molto semplice in fase di riduzione del rumore in fase di riduzione del rumore ciao Luca buonanotte ok ci mancherebbe ragazzi io anzi voglio sapere i vostri perché non mi lasciate il mio approccio altrimenti rimarrò sempre io guardo moltissimi tutorial di PixInsight sia per imparare ma soprattutto per cercare di capire come come lavorano le altre persone perché tutte le cose non c'è altro modo che scoprirle così oppure quando si hanno problemi giustamente poi bisogna ingegnarsi per cercare di capire come risolverli però spesso l'ispirazione viene guardando le altre persone vediamo se c'era allora Giorgio per tirare fuori colori uno doveva essere stato la luminanza lRGB combination è sbagliato tu Giorgio parli di un'immagine di una fotocamera a colori cioè tu vuoi tirar fuori lRGB o non ti fammi la domanda per favore perché non ho capito non l'ho capita bene comunque stavo pensando vabbè diciamo SCNR se proprio vogliamo buttarlo là nel frattempo che solitamente la dominante è quasi quasi soprattutto tutta la fotocamera a colori sempre per il pattern di Bayer GGB il colore a rimuovere così sempre il verde il consiglio che vi do è non sparate direttamente uno ma andate sempre per piccoli step questa è una cosa che consiglio in tutti i processi che uso invece di dare una botta a uno funziona molto meglio dare tre step ad esempio da 0.33 e si ha più controllo della cosa questo è l'unico consiglio che mi sento di dare assolutamente Oscar questo è corretto grazie Jacopo grazie mille manca il gatto ah c'avete ragione aspettate vediamo senza fare se riesco a farmi vedere sì è qui che dorme sono riuscito a farlo addormentare sul sulla sedia dopo che è stato praticante voi non l'avete sentito ma per tre quarti di diretta ha fatto veramente il diavolo a quattro di là quindi mi sono messo in modalità zen cercando di ignorarlo poi alla fine per fortuna ha desistito comunque sì Oscar HDR multiscale transform assolutamente sì e io l'ho utilizzato adesso non ce l'ho qui in un'elaborazione di Andromeda dove avevo il nucleo molto saturo e Attilio che è il mio maestro di PixInsight metto guarda che nel nel nucleo di Andromeda c'erano delle bellissime strutture di polveri ho detto prova con HDR multiscale transform e io dicevo no vabbè era palese era proprio bruciato cioè come se proviamo a prendere un'immagine con questo veramente il nucleo era a dei livelli spaventosi quasi così la religione del nucleo ho detto non si vedrà male invece con HDR non so come cioè veramente riesce a fare miracoli quel processo è riuscito a salvare la situazione allora 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 consiglio di essere le luminanze ed usare l'RGB combination flaggando solo la luminanza questo ma per tirare fuori i colori nel senso tu dici per intensificare la la saturazione del colore per avere più colore nell'immagine perché separare l'RGB e poi ricombinarlo e lavorare sul colore sto pensando quale potrebbe essere il beneficio non mi viene in mente con la fotocamera colore un conto è se si lavora in monocromatico sì ovvio poi per la ricombinazione pensavo se stessi alludendo a quello allora mi ha detto quando utilizzo il scnr in fase di minare dopo aver calibrato i colori sì io lo utilizzo come ultimo step pre-stretching dopo aver fatto la riduzione rumore faccio riduzione deconvoluzione no scusami riduzione gradienti calibrazione colore deconvoluzione riduzione rumore dopo che ho tolto anche la crominanza ho calibrato il colore eccetera se mi rimane un residuo di verde di qualcosa uso scnr allora poi ci sono altre domande no non vedo altre domande e niente ragazzi per il per il resto sto cercando di pensare ancora se c'è qualcosa che ho mancato ho cercato di mantenere la concentrazione tutto il tempo no questo è il workflow almeno per questa M33 è stato questo è il workflow le variazioni le uniche variazioni che posso avere nella riduzione rumore ad esempio una domanda vi pongo qualcuno di voi utilizza multiscale linear transform per la riduzione rumore io so di persone che la usano io l'ho provato a usare senza mai avere molto successo ho sempre preferito il suo fratello multiscale linear transform però alcune persone lo utilizzano anche per la riduzione del rumore a me non ha mai funzionato come avrei voluto allora quando hai fatto il forte search immagino quando mi vedi può essere di sì perché come ho detto io ho sempre avuto problemi vediamo un attimo sì infatti è proprio il coso del flat il flat non si vede nell'immagine a meno che non si esagera ad esempio conviene fare un mega stretch così qui non ha corretto bene in queste immagini devo dire che in realtà ho avuto abbastanza problemi con i flat di questa camera a differenza delle delle altre ad esempio con la mia 616 non ho mai mai avuto problemi del genere invece con questa in particolare con Andromeda no con Andromeda e con l'Aquare no con questa qui sì non ho fatto assolutamente niente di diverso anzi con Sequence Generator però ho fatto il flat calibration wizard ho utilizzato gli stessi valori non so se boh qualcosa che dipende dalla tavoletta led o qualcosa che ho sbagliato io non mi sono reso conto però in queste immagini i flat non hanno corretto come dovevano ma a livello di colore secondo me c'è una dominante proprio nei flat che va corretta come diceva qualcuno all'inizio potrebbe essere anche quello ah è ok Maurizio tu usi il metodo di John Rista ok John Rista va sempre sul sicuro questo devo indagare devo indagare con tool di auto si può vincere sicuramente sì però devo dire la verità adesso sto lasciando mettendo un attimo la parte Pix Insight con Sequence Generator però io mi trovo molto bene anche con Calibration Wizard quello che bisogna sapere però diciamo la risposta lineare del proprio sensore soprattutto data la gamma dinamica del proprio sensore qual è il livello di ADU adatto perché quella è un po' la scienza oscura che penso nessun software possa fare si può fare si può andare di prove anzi si può andare semplicemente misurando è un processo abbastanza complesso io no Luca tutto quello che ho imparato io ho cominciato nel 2017 quindi sono tre anni e ho cominciato da autodidatta ma autodidatta per quanto riguarda come fotografare la luna via lattea robe molto molto base mi sono improvvisato una volta con Andromeda poi un giorno vi farò vedere una schifezza totale però è la mia prima Andromeda e ci tengo ancora e poi ho avuto la fortuna di conoscere alcuni astrofili qui della mia città di Lanciano in particolare questo che vi dicevo prima il mio maestro Attilio che mi ha messo sulla diciamo sulla strada giusta e mi ha fatto muovere i primi passi con con PixInsight e mi ha sempre seguito nel senso quando avevo domande eccetera mi ha sempre dato le giuste dritte poi per il resto ho comprato libri guardato tutorial ho studiato ho sperimentato ecco mi reputo penso a un livello medio per quello a cui ambisco io ci sono molte cose che ancora non so nemmeno io ci sono dei problemi che a volte mi accadono non so perché cerco di trovare soluzioni e quindi penso che il cammino sia molto molto lungo anche per me il il modo in cui cerco di approcciarmi alla cosa è soprattutto per chi muove i primi passi ci ho spattuto di tanti anch'io quindi cerco di dare una mano almeno ad individuare quali sono le prime cose da vedere da capire per muovere i primi passi e avere un primo risultato così che uno si motiva e non non si demoralizza ecco perché poi nasce la fotografia demoralizzarsi un attimo allora è provato a fare con lo star allora vediamo un po' ciao Oscar buonanotte buonanotte è provato a fare con lo star net plus plus ma tu dici Mirko in particolare queste immagini no ho fatto alcuni ad esempio la nebulosa crescent l'avevo fatta con lo star net probabilmente non averà il rapporto segnale rumore che volevo ma io non lo so sono sempre molto combattuto su star net perché quando vedo le immagini starless se intendi starless o intendi le maschere di stelle non lo so mi sembrano troppo finte a mio avviso al mio gusto personale per me le stelle nell'immagine ci devono essere perché fanno fanno parte dell'universo quindi non so andare a togliere qualcosa è come dire hai tolto quella nebulosa oscura da non so dalla nebulosa cono non è più la nebulosa cono cioè è una cosa che non non mi intriga più di tanto e addirittura adesso non mi far commuovere qui in diretta e poi arrossisco no dire la verità adesso sono contento che c'è anche c'è anche Attilio perché poi la cosa forse di più grande valore che mi ha insegnato è che non bisogna dare le cose per buone ma bisogna capire perché funziona in determinato modo di sperimentare di chiedersi sempre perché di non accontentarsi ecco questa è una bella immagine ovviamente ognuno può dire per me è una bella immagine però la domanda bisogna sempre porsi a fine elaborazione o quella che mi faccio io è ho tirato fuori il massimo che potevo dai dati e dall'esperienza che ho attualmente se la risposta è sì o credo al 90% sì allora sono soddisfatto altrimenti riparto da capo perché mi succede molte volte che guardo un'immagine e mi c'incazzo proprio perché dico cioè parto dalla fase post calibrazione e somma dico mamma mia questa sarà la foto più bella del mondo arrivo a fine elaborazione che è veramente una porcheria e non capisco perché quindi riparto da capo e di nuovo e di nuovo quello secondo me è il processo di crescita poi sono convinto che se prendessi i dati di due anni fa tirerei fuori molto di più rispetto ad essere cosa che faccio e che consiglio di fare a chiunque perché aiuta anche a capire quanto si è migliorati nel tempo ciao davide ben arrivato ciao Cristian buonanotte va bene ragazzi ultimi due minuti così chiediamo a due ore precise anzi con gli ultimi 90 secondi di live poi ci salutiamo spero vi vi sia piaciuto questo genere di live sia stato interessante non sia stata noiosa non lo so com'è vedere qualcuno che elabora per due ore con PixInsight a me piacerebbe vedere alcune persone elaborare con PixInsight beh ripeto ho visto il mio maestro non mi sono mai annoiato ho imparato molto però ecco se c'è qualcosa che nella formula di per sé vorreste rivedere oppure vorreste vedere in una maniera diversa ecco sempre sono sempre benvenuti i vostri feedback per il resto grazie Mauro per il resto ragazzi io vi ringrazio per essere stati due ore con me ma chi lo fa fare ma ancora la mia ragazza è andata a dormire che ore sono la mia ragazza è andata a dormire due ore fa all'inizio della live quindi vi ringrazio per essere stati con me perché la mia ragazza non è riuscita a stare neanche un minuto su questa live ad ogni ah ciao Ferdinando chi si vede un salutone grazie Maurizio grazie grazie Maurizio grazie tutto con caso grazie Massimiliano cerco sì ho cercato un sacco di informazioni è vero come ho detto qualcuno esplode la tasta perché il workflow è una cosa lunghissima però era così giusto per farvi vedere un po' come come lavoro con PixInsight generalmente ovviamente è un sunto del tutto comunque la revisione e la reconvoluzione sul tutorial assolutamente sì adesso Alessandro infatti me l'ha fatto notare Massimiliano e questa cosa è giusta perché poi passa un messaggio che può confondere la gente quindi mi riguarderà tutta la serie di PixInsight e vedo se ho cambiato qualcosa di cruciale nel workflow perché poi a volte cambio e poi torno indietro e poi riprovo di nuovo sono in continuo evoluzione però sì assolutamente sì anzi lo scriverò subitissimo così non mi scordo e poi andrò a dormire comunque buonanotte a tutti ragazzi grazie se siete stati con me un abbraccio a tutti quanti voi spero che il cielo sia sereno anche se c'è la luna piena quindi vi auguro cieli sereni per le prossime settimane grazie tanti auguri mi faccio per due trecento volte va bene ragazzi io vi auguro buonanotte allora ci vediamo nel video di oggi che giorno ho perso il conto oggi è martedì ci vediamo nel video di domenica e vi anticipo già che domenica si parlerà dei cieli di novembre perché arriva novembre quindi vediamo un po' che cosa fotografare a novembre se riesco faccio anche un'amico puntata su PixInsight come aggiungere le annotazioni alle immagini perché alcuni me l'hanno chiesto è una cosa molto stupida facili cioè subita nel senso bella veloce da fare da imparare quindi se faccio se riesco a fare tempo faccio anche questo breve video buonanotte a tutti ragazzi ci sentiamo ci vediamo prestissimo un bacio a tutti ciao ciao